salve a tutti signori oggi siamo su gioco digitale sto registrando una sessione col mio smartphone sono le 11 10 andremo a provare il synapse ricordo che questa roulette era abbastanza propensa per il sistema ho caricato 140 euro 6 euro erano già dentro vediamo un po primo spin vediamo di renderla più veloce secondo spin terzo spin andiamo cerca e la ricerca di un ripetente ecco qua abbiamo l'otto che il nostro synapse ci indicherà i cinque numeri pieni da puntare quindi il 3 il 4 11 31 33 primo spin secondo spin terzo spin quarto spin quinto spin sesto spin al sesto ci prendiamo l'undici facciamo girare di nuovo la roulette a volto il 32 andiamo ad analizzare con il synapse il 32 che ci darà altri cinque numeri pieni quindi 1 6 il 9 il 19 e il 21 primo spin secondo spin al secondo spin ci aggiudichiamo il 19 facciamo rigirare a vuoto la nostra roulette 34 23 ancora nulla 34 il 34 che è il sinapse c c è il 34 che è il sinapse c c è il 34 che è il sinapse c è il indica di impostare il 17, il 19, il 24, il 26 e il 27. Primo spin, secondo spin, terzo spin, quarto spin, quinto spin, sesto spin. Andiamo a raddoppiare il 24. Il sinapsi possiamo andare a giocarlo o così attendendo il ripetente oppure a ogni numero che la roulette estrae andiamo a puntare i nostri numeri delle sinapsi. Quindi adesso ho un 24, andrò a puntare un 2, un 7, il 17, il 19 e il 22. Primo spin, secondo spin, terzo spin, quarto spin, quinto spin, sesto spin, al sesto spin, 19. Quindi adesso ho il 19, analizzo il 19, 3, 5, 9, il 13 e il 17. Primo spin, secondo spin, terzo spin, quarto, quinto, sesto, settimo. Vado a raddoppiare al nono o all'ottavo, non ricordo. Ora abbiamo il 3. Ora rifacciamo fare la giocata di prima, cioè attendiamo un ripetente, un ripetente. Eccolo qua, doppio 9 e il sinapsi ci indicherà il 2 e il 3, il 14, il 27 e il 35. Primo spin, secondo spin, terzo spin, quarto spin, quinto spin, sesto spin, raddoppio, settimo, ottavo, nono e il 3. In questo caso, il sinapsi, quando ritardo un po' è bene ripuntare anche gli stessi numeri e ripartire da 0. Primo spin, secondo spin, eccolo qua, al secondo spin, mi sono giudicato il numero, siamo già a 172 euro. Continuiamo così, 21, 33, 32, che abbiamo super, 1, 6, e 9, 1, 6, 9, 19, 21. Primo spin, secondo spin, al secondo spin, ci aggiudichiamo il numero 1. I sinapsi, ovviamente, ho constatato anche dopo varie prove, che è funzionale anche con le live roulette della Playtech e della iVusion Gaming, come la Venezia, con data minima da 50 centesimi, come l'auto roulette, come la speed auto roulette, come la light thinning, quella dei moltiplicatori. Facciamo un'altra giocazza. Abbiamo l'8 e il sistema ci consiglia di puntare il 3, il 4, 11, 31 e il 33. Primo spin, secondo spin, terzo, quarto. Al quarto, ci aggiudichiamo il numero. Facciamo rigirare ancora. il 32, il 32, il 32, 1, 6 e 9, 19 e 21. primo spin, secondo spin, terzo spin, quarto spin, quinto, sesto. Al sesto ci aggiudichiamo allora il numero live. Sì eccolo, il 13, 21, 28, 34, primo spin, secondo spin, terzo spin, quarto, quinto, ecco qua, ciao a tutti.